la nostra attività è il judo noi facciamo il judo, il judo è uno sport è uno sport olimpico è l'unica arte marziale ufficiale olimpica siamo obiti qui del judo io nella palestra forseggiare scuola alimentare e noi facciamo attività qui questa è la nostra palestra questo è il nostro tatami come si dice in giapponese e molti di voi sapranno è il tappeto il judo è una lotta è una lotta ci sono molti bambini nel primo turno proprio perchè è propedeutica a superare certe difficoltà sono dei bambini d'oggi noi siamo sempre qui il martedì e il lunedì dalle 6 alle 7 per uno dei bambini dalle 7 alle 8 e mezzo per uno dei grandi adesso lo facciamo anche aicido io e il maestro Petinat siamo insegnati da aicido facciamo anche quello ed è solo riservato agli adulti un minimo da 15-16 anni non proprio i bambini vecchi di un'altra e altre marziale li facciamo sempre qui il martedì e il venerdì dalle 8 alle 9.30 venite a trovarci noi siamo qui, vi aspettiamo grazie